Come ci sono finito in galera, ho fatto niente, guardia come sono finito qui, non posso, come faccio io uccidere i draghi, guardia se sto chiuso qui, come faccio, guardia come faccio, sono le, sono le tre di notte, come faccio uccidere i draghi, guarda, non ho posto, ho anche l'uscarla, guarda, date, date la mia è questa, la mia è questa, ma quello lì che problema ha, un pittolino in testa, Fatemi uscire, oi ehi, è la fine per me, buttatemi la mancia, spremuta